we bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e finalmente è arrivata la patch 12.20 una patch sostanzialmente leggera per chi è sia da console che da pc ma che ha al suo interno un sacco di roba interessantissima andiamo infatti a vedere tutti i leaks che sono stati trovati tutte le nuove skin arrivano gli elicotteri roba aggiornata partiamo subito ragazzi dalla prima immagine come vedete è un elenco di tutte le nuove skin tutti gli outfit che sono stati trovati ma la cosa che ci colpisce a prima a prima vista sono nella prima fila le tre skin che faranno parte del nuovo pack slurp come vedete c'è uno slurp johnsy slurp bundle list e slurp leviathan come vedete ovviamente vanno a riprendere il liquido azzurro presente da tanto su fortnite abbiamo anche una bella carrellata però di tutti gli oggetti tutti gli item che sono stati trovati quindi i backpack come vedete abbiamo nella seconda e terza posizione della prima fila invece due cose relative ovviamente a deadpool il regalo di questa settimana che è una schermata di caricamento e molto probabilmente il regalo della prossima settimana che invece è la copertura per le armi davvero molto bella c'è un music pack la canzone i'm a cat quella presente nell'emoji della del pass battaglia del primo balletto e poi un sacco di picconi quattro coperture per le armi e dei backpack in queste immagini invece stiamo vedendo la schermata di caricamento che è davvero meravigliosa mi piace tantissimo lo stile disegnato alcuni dettagli che ci saltano all'occhio in alto a sinistra il pollo di gomma poi calze mutande la dinamite di deadpool con in è troppo ignorante questa schermata di caricamento è una delle mie preferite in assoluto e andando avanti invece modifiche molto più importanti e sicuramente molto più serie per quanto riguarda la mini mappa o meglio la mappa del gioco avete già notato che c'è una differenza nell'angolino in basso a sinistra sto parlando del pozzo e come si vede chiaramente in questa immagine è esplosa sono esplose le tanniche che portavano probabilmente un liquido scuro che come vedete ha iniziato ad inquinare il mare ora non sappiamo quale saranno le ripercussioni in game di questa macchia d'olio però una modifica che sicuramente fa capire che c'è una storyline o probabilmente anche un evento credo che sia più un evento perché altrimenti non avrebbero modificato la mini mappa passiamo subito invece e molto rapidamente a salva il mondo dove abbiamo gold nox un nuovo eroe leggendario costruttore va anche questo a richiamare ovviamente tutta la storyline andando avanti qua vediamo completamente invece il pack non sappiamo ancora il prezzo ma dovrebbe stare ugualmente circa sui 24 euro come costavano in poche parole gli altri pack va ad aggiungersi alla collezione carino non uno dei migliori sinceramente però magari in game poi le skin sono molto più belle facciamo una carrellata molto rapida invece di tutte le skin arriverà invece una variante anche per la guerriera delle high glance come vedete gli viene inserita la maschera e vengono messe delle sfumature dorate in tutta la la sua veste altre skin dei quali non conosco i nomi questa è sicuramente comunque facente parte degli agenti segreti questa sembra una cyborg e questo invece sembra non lo so un tizio che è scappato da un circo andando avanti abbiamo il dj dei poveri e proseguendo una classica rivisitazione di skin già viste e straviste invece qua abbiamo il signor minotauro che è veramente molto inquietante allo stesso tempo molto carino a parte le cornazze che gli escono però tanta tanta roba andiamo avanti perché la cosa molto interessante di questa patch 12.20 è senza dubbio l'introduzione della nuova ltm quella che vediamo dove c'è il computer nella lobby dove ci sono gli agenti si chiamerà spy games avrà tre sfide da fare per poter ottenere un totale di 240 mila punti esperienza vincere un'operazione in operation match operation match si chiama scusatemi fare danno ai giocatori nell'ltm ed eliminare invece i giocatori nella stessa ltm ogni sfida 80 mila punti esperienza un ottimo modo per livellare il pass battaglia questa sarà anche la settimana però della scelta della gente miascolo potremmo scegliere se farlo ombre oppure spettri le missioni che ci servono per fare questa scelta sarà semplicemente consegnare del pesce alla cassetta delle ombre o del pesce alla cassetta degli spettri tre sono invece i nuovi balli inseriti dei quali purtroppo ancora non conosco i nomi di cui uno dei tre però è in attraversamento il primo è questo qua che sembra un balletto un pochettino ambiguo abbiamo una specie di posa a t ma credo che sia anche questo comunque abbastanza in movimento e non statico mentre invece è chiaro e limpido che il balletto che stiamo vedendo con l'aquilone è sicuramente in attraversamento quindi vedremo in giro gente a fare gli ignoranti con gli icone trovate che non si erano mai viste su fortnite abbiamo due opzioni per capire dove andranno collocate la prima è che si dica facciano parte dei perk sulle armi della nuova modalità spy games operation quella che abbiamo visto prima la seconda è che alcuni sostengono sia invece siano invece dei loghi per le nuove medaglie in game io sono più propenso a pensare che siano dedicate ai perk delle armi staremo a vedere ovviamente non vedo l'ora di provare insieme a voi questa nuova ltm modifiche ancora per salva al mondo arrivano due nuove armi arriva un cecchino che si chiama do cleaner utilizza munizioni pesanti un tempo di ricarica di tre secondi un colpo a alla volta e una un danno di 680 si va avanti con la seconda e ultima arma trovata di salva al mondo the pot shot invece è una specie di lancia granate lo capiamo perché utilizza dei delle munizioni razzo 6 colpi nel caricatore 1359 il danno ed ecco invece una grandissima figata il piccone che verrà dato a chi si qualificherà alla fn cs alle fortnite championship series il nome del piccone ex ex of champions quindi lascia dei campioni e auguro ovviamente a tutti di ottenerlo perché farà parte sicuramente di un set super super raro un oggetto da collezione un vanto sicuramente da avere nel proprio armadietto ma guardate invece che grande figata c'è qua alla vostra destra è stato trovato un aggiornamento sulle slarpfish vi ricordo sulle chug splash che cazzo sono le slarpfish sulle chug splash ragazzi le 6 birrozze che sono arrivate nella season 8 non ricordo bene di fortnite comunque quando ancora fortnite era veramente was all tanta tanta roba perché vi ricordo davano immediata cura che sia il o che sia shield tanta roba speriamo di rivederle subito in game ci sono stati anche degli aggiornamenti però attenzione sulle clincher le granate quelle appiccicose no quelle che tiravi con lo stura lavandini tanta roba anche per quello me le ricordo benissimo penso ve le ricordiate anche voi staremo ovviamente a vedere e passeggiando in giro per la mappa invece troveremo delle novità ci sono due nuovi poster dove c'è sempre lui ragazzi il deadpool che fa le sue pistolate questo è il poster dove vediamo in maniera classica mida che chiede l'arruolamento nella sua fazione invece qua c'è deadpool che si disegna dietro disegna buffi e occhiali a mida e dei fantasmi mentre il secondo ragazzi è sempre lui davanti al poster delle ombre shadow we want you sarebbe deadpool we want you andiamo avanti ragazzi perché parlando di deadpool abbiamo anche le sfide di questa settimana che arriveranno dovremo trovare proprio questo unicorno giocattolo probabilmente sarà nella sua nella sua tana tra virgolette quella che riusciamo a raggiungere dal condotto dare azione in lobby ed eccoli qua ragazzi finalmente gli elicotteri un grande arrivo su fortnite finalmente dopo tanto tempo un nuovo veicolo si sa che potranno trasportare quattro passeggeri non potranno sparare ovviamente avranno sembrerebbe 1500 punti salute e la possibilità di avere un'accelerazione quindi tanta roba questi non sono ovviamente i colori ufficiali ma fanno parte comunque del game arrivano anche le sfide per questa settimana quelle che danno 400 mila punti esperienza in totale perché sono dieci sfide non stiamo a leggerle tutte le lascio leggere a voi queste sono della settimana numero 5 mentre queste invece sono della settimana numero 6 non andate a leggere ovviamente il il banner in alto non sono le musical smith sheoff quelle in realtà sono è un nome che vale solo per la settimana numero 5 insomma ragazzi tanti tantissimi update per questa pace 12.20 che dovrebbe detenere 14 giorni poi passeremo alla 12.30 dove vedremo un pochettino che cosa arriverà io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video ragazzi su twitch non sto andando via sto solo chiudendo il video rimango in live noi ci vediamo in live sulla piattaforma viola ciao